L'Istituto Palazzeschi di Subbiano compie 100 anni in questo 2023. Riguarda la scuola materna, una scuola paritaria, riguarda l'asilo nido e riguarda anche il doposcuola, ma soprattutto riguarda la famiglia, giusto? Sì, sicuramente. È da 100 anni che siamo al servizio delle famiglie di questo paese e dei paesi vicini, senza fare distinzioni, accogliendo tutti i bambini. E a questo punto c'è anche questa sottoscrizione interna, quindi in giro per Capolona, per Subbiano e anche fuori, ci sono questi biglietti. Quindi perché sostenere l'Istituto Palazzeschi? Come sempre ci hanno detto tutti intorno a noi, è una risorsa per il nostro paese. È una risorsa che va sostenuta perché possa continuare a garantire quella formazione, quella educazione di bambini e di ragazzi che ci viene richiesta da tutte le famiglie. Una sottoscrizione che poi vedrà proprio l'estrazione finale nel giorno del pranzo, quindi che sarà al centro eventi di Subbiano. Il pranzo ci sarà domenica, 7 maggio. Invitiamo tutti a partecipare. In quell'occasione ci sarà anche l'estrazione appunto dei premi della lotteria. E mi piacerebbe veramente che potessero partecipare a questo pranzo anche tutti i bambini che nel tempo si sono susseguiti in questo istituto, che veramente adesso sono magari grandi e hanno le loro famiglie. Hanno le loro famiglie, hanno i loro bambini e tanti di quei bambini, proprio perché hanno trascorso momenti dell'infanzia educativi importanti qui, oggi hanno i bambini qui. Sì, 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 certo. Vediamo che ci sono magari dei bambini che qui hanno fatto la scuola dell'infanzia, perché chiaramente il nido all'epoca non c'era, magari 20-30 anni fa, e adesso portano i propri figli qui come una sorta di continuazione e tradizione. E questo ci fa molto piacere.